Mercoledì 6 giugno alle ore 20 e 30 in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli è in programma la giornata dell'arte life. L'evento è patrocinato dal Comune di Agropoli ed è organizzato dall'associazione di volontariato o un sogno movimento. È la manifestazione finale del progetto expressioni percorsi di prevenzione delle dipendenze finanziato dal piano sociale di zona S8 comune capofila Vallo della Lucania. Protagonisti saranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che presenteranno momenti estrapolati dai loro laboratori scolastici. Gli istituti scolastici partecipanti sono l'istituto comprensivo Agropoli Gino Rossivairo, l'istituto comprensivo Castellabate con l'orchestra Ruggero Leoncavallo e l'istituto comprensivo Iastro Visconti. Durante la serata dopo i saluti istituzionali del sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola ci sarà il secondo appuntamento del Carlino dedicato ai talenti e ci saranno diverse performance per le associazioni di volontariato impegnate sul territorio il coro dell'associazione Lume diretto da Paola Tozzi, per la danza l'Ateneo Danza Musical e Fitness di Rita Polidoro, per la musica Miosotis Anna Scolese e per lo sport Ronin Agropoli Judo Pancrazio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento.